buongiorno a tutti ben trovati siamo pronti con il nostro le fonti bce board per l'occasione come tutti gli eventi sia sul nostro sito le fonti punto tv ma anche su tutte le nostre piattaforme social quindi vi invito se volete a seguirvi a seguirci anche da lì per scriverci sulle nostre live chat per dire la vostra su quelle che sono le attese della riunione della banca centrale europea ricordiamo che tra un quarto d'ora circa arriverà il comunicato stampa e poi alle 14 30 comincerà a parlare la numero uno dell'istituto di francoforte una riunione naturalmente tanto attesa perché questi sono effettivamente due giorni di fuoco per i mercati ieri sera la riunione della federal reserve oggi appunto la banca centrale europea dicevamo riunione tanto attesa perché bisognerà capire come si muoverà in modo equilibrato appunto l'istituto di francoforte che dovrà valutare sicuramente l'aumento dell'inflazione da una parte quindi che in qualche modo dovrebbe portarla a stringere la politica monetaria ma dall'altra insomma anche la variante omicron che sta mettendo un po dura prova l'europa e le previsioni economiche che non sono ancora troppo chiare e che quindi non lascerebbero spazio appunto a un allentamento della politica monetaria c'è già chi definisce questa riunione un modo per capire quanto equilibrata è christine lagarde quanto è equilibrato il board della banca centrale europea però anche su questo punto ci torniamo tra poco intanto io saluto giacomo jacomino che sarà con me giacomo bentrovato ciao manuela bentrovati a tutti sai che c'è chi anche definisce questa riunione drammatica addirittura cosa ne pensi drammatica se qui è una questione di dicotomia secondo me cioè stiamo per assistere a una situazione in cui la fed va da una direzione e la bce ne prende un'altra in realtà la dicotomia per adesso non c'è dicotomia cioè separazione netta tra due filosofie perché ci si aspettava in qualche modo che la bank of ingland avrebbe mantenuto i tassi invariati tanto suona un rumore c'è un suono che insomma non mi è nuovo esatto e insomma la bank of ingland ha stupito gli analisti e le aspettative perché a settembre tutti si aspettavano un rialzo dei tassi e rialzo dei tassi non c'è stato oggi gli analisti non erano così diciamo così ottimisti a riguardo e invece la sorpresa c'è stato tassi di interesse ritoccati al rialzo dallo 0 1 lo 0 25 per cento insomma la bank of ingland sfida il la variante omicron la regia vi sta facendo vedere intanto il grafico in al momento più importante di tutti e cioè il grafico esatto della dollaro sterlina che come vedete questo il grafico daily è in fase rialzista cioè la spinta verso l'alto che aveva che avvenuto sostanzialmente quando la bank of ingland ha comunicato le proprie politiche monetarie ed eccola qua nel momento in cui alle 13 è uscito il comunicato siamo davanti a un'impennata da 1 32 7 a 1 33 e 6 ed è anche un livello interessante perché come vedete corrisponde anche a quello che era stato un supporto in aria in nel mese di novembre insomma quindi è un livello ciclico sicuramente interessante assolutamente sì peraltro non più tardi di questa mattina proprio il fondo monetario internazionale aveva invitato la bank of ingland per usare una parola un po edulcorata a fare in fretta proprio per il rialzo dei tassi proprio per l'inflazione che al 5,1 per cento è un po il tema che riguarda tutta l'europa insomma quindi è quello che dicevamo poco fa l'equilibrio il giusto equilibrio che la banca centrale europea dovrà trovare anche stando ad ascoltare a sentire e a vedere naturalmente quelle che sono le previsioni economiche saranno centrali perché da lì si giocherà un po il tutto e capiremo cosa intende fare la banca centrale europea peraltro già come abbiamo visto giustamente il grafico della sterlina dollaro che è a rialzo già dopo l'intervento della fed di ieri i mercati hanno festeggiato insomma abbiamo visto wall street ieri che ha chiuso assolutamente in modo brillante i mercati asiatici con tokyo soprattutto che è andato in rally i mercati europei possiamo magari fare una panoramica generale prima di cominciare a parlare con i nostri ospiti che hanno una buona impostazione a seduta sostanzialmente rialzista quella di oggi per le borse europee proprio con gli investitori che evidentemente sposano le decisioni della fed anzi c'è chi sostiene che avrebbe dovuto decidere prima per un'accelerazione del tapering appunto così ribadiamo cos'è accaduto e un graduale rialzo dei tassi di interesse dovrebbero essere tre l'anno prossimo nel 2022 allora borse europee poi cominciamo a parlare appunto con i nostri analisti tradotto i mercati temevano di più l'inflazione del tapering c'è stato un periodo in cui si temeva oddio adesso comincia il tapering chissà che cosa succede perché comunque riduce gli acquisti riduce la liquidità e quindi viene meno la domanda e quindi a quel punto viene anche meno la propensione al rischio e invece i mercati hanno dimostrato di temere di più l'inflazione perché insomma Powell ha annunciato il rialzo dei tassi tre rialzi dei tassi nel 2022 e comunque i mercati hanno festeggiato col nasdaq a più 2,15 e lo standard pur a più 1,63 peraltro standard pur a ridosso dei massimi la vedete la striscia bianca che vedete in alto bianco già io qua ce l'ho gialla lì la vedo bianca fa niente comunque sia è esattamente il soffitto il tappo che rappresenta un po la livello di resistenza a cui è arrivato lo standard pur ieri milano guadagna l'uno 11 per cento il dax guadagna l'uno e 75 per cento esatto e al momento la germania è il mercato più forte germania che poi è la fronda più hawkish della bce insomma soprattutto i tedeschi spingono per un affinché christine lagart faccia qualcosa e che magari si metta in coda alla fed mentre invece la sensazione che lei possa essere immobile questo perché perché la la germania un'inflazione più alta rispetto all'eurozona più alta rispetto all'italia e regia mostriamo facciamo vedere insieme anche ai nostri amici a casa il cartello dell'inflazione che abbiamo preparato e che vi abbiamo già mostrato anche al durante il la la diretta di ieri ed eccola qui eurozona 4 9 per cento massimo storico stati uniti 6 8 per cento massimo dal 1982 c'era reagan per intenderci regno unito 5 1 per cento e qui la notizia che ha dato manuela poco fa del fondo monetario che ha detto guardate che sono alzati i tassi subito nel 2022 ci sarà una impennata per quanto riguarda l'inflazione nel regno unito e quindi le cose potrebbero peggiorare germania 5,2 massimo dal 92 è superiore al regno unito è superiore all'italia che al 3,7 per cento ed è superiore anche alla media dell'eurozona del 4 9 per cento quindi i membri del 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 consiglio direttivo della bce tedeschi bide man in primis premono affinché insomma christian lagarde in qualche modo non sia non sia falco come non sia falco come paolo ma magari falco a metà così facciamo anche una citazione esatto esatto peraltro mi hai lanciato un assist incredibile che lancerei anche al nostro ospite che già collegato lo salutiamo angelo drusiani angelo ben trovato grazie per essere con noi grazie per l'invito l'assist è questo angelo ovviamente poi dopo analizziamo tutta una serie di aspetti mentre aspettiamo peraltro il comunicato stampa allora due fazioni ci sono sempre due fazioni quando ci si prepara ad assistere alla consueta conferenza stampa sia di fed che di bce chi sostiene che sarà una riunione quella di oggi anzi una conferenza stampa molto noiosa cioè nella quale christian lagarde fondamentalmente non dirà nulla di più rispetto a quello che ha detto nei giorni scorsi in primis per esempio nonostante il dato sull'inflazione che abbiamo visto al 4,9 per cento dell'eurozona che si nagara detto che i prezzi si raffredderanno insomma nel già all'inizio del 2022 chi sostiene invece che dovrà necessariamente prendere invece delle decisioni più mirate perché se così non fosse a parte che appunto l'inflazione potrebbe avere un picco ancora più importante ma potrebbe essere insomma tirata un po' per il colletto soprattutto da dalla germania ecco mettiamola così facciamo ti chiedo subito tu dove ti senti di posizionarti poi naturalmente insomma analizziamo la questione a più ampio raggio angelo io vorrei fare una piccola premessa non sono così convinto che l'andamento dell'inflazione possa rimanere così forte nel corso dei prossimi mesi perché l'eurozona non sono negli Stati Uniti le persone per quanto sia sono un po' più attenti al futuro e hanno più paura del futuro di quanto lo abbiano gli americani per dire in generale gli statunitensi e quindi non è neppure da escludere che nel corso dei primi mesi del prossimo anno la propensione ai consumi non sia così forte come lo sarà forse negli Stati Uniti quindi è giusto che la BCE si ponga a metà strada e faccia capire che comunque è attenta all'inflazione che potrebbe intervenire in maniera non dico importante però potrebbe intervenire nel corso dei prossimi mesi ma da qui a pensare che l'economia continuerà a crescere come sta crescendo adesso qualcuno ha detto che è un rimbalzo il Presidente della Confindustria Italiana non è la crescita economica duratura del nostro paese e così sarà anche per gli altri paesi un rimbalzo un po' per tutti questo e quindi secondo me pensare che si possa essere un'inflazione così forte dove di intervenire con un rialzo dei tassi cospicuo secondo me è ancora presto per deciderlo poi magari potrà accadere che sia così però io in questo momento qui sarei un po' un po' più cauto. Un po' più cauto insomma ma secondo te Cristina Lagarde che atteggiamento avrà nei confronti dei mercati degli investitori appunto farà vedere cioè per esempio ti faccio un esempio molto banale il PEP il programma antipandemia scade a marzo e in teoria Cristina Lagarde dovrebbe confermare proprio la scadenza almeno questo lo farà o tenderà a essere un po' più come dire ancora più risolta proprio per non spaventare i mercati a fronte del fatto che ancora non conosciamo esattamente le previsioni perché poi saranno centrali anche quelle. Qualcosa dovrà cedere comunque vista la luce del risultato di quanto è accaduto nel Regno Unito di quanto è stato già programmato negli Stati Uniti non può rimanere isolata quindi qualcosa sicuramente cederà e questi discorsi che tu facevi riferimento secondo me ha molto senso quindi sono convinto che sarà una una presentazione a metà strada tra quelli che vorrebbero un'immediata comunicazione che realizza i tassi era avvicinato e tra chi invece teme che questo possa accadere in tempi troppo ravvicinati per cui sì sicuramente non può non essere condizionata da quanto hanno detto i suoi predecessori in questi giorni in queste ore. Angelo passiamo a commentare la decisione della Bank of England che ha sorpreso un po' tutti quanti con la decisione di alzare i tassi allo 0,25% mantenendo invariato invece il quantitative easing o il monetary policy committee ha così deciso insomma votando all'unanimità di non modificare e anzi mantenere insomma gli acquisti di obbligazioni e per il quantitative easing complessivo invariato 875 miliardi di sterline sostanzialmente ha fatto il contrario della fed ha alzato subito i tassi e ha mantenuto invariato il bazooka. Sì sicuramente sai il Regno Unito e la banca del Regno Unito è classica e come 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 gli abitanti del Regno Unito un po' particolare quindi vuol sempre notare di essere il primo della classe questo credo sia fuori discussione ma non è offensivo è chiaramente una tipologia di abitudine del paese inglese che dell'Inghilterra in generale e quindi non mi sorprende che abbiano fatto questo rialzo rialzo a cui bene o male comunque al di là di quelle che possono essere le prospettive si dovranno arrivare un po' tutti perché lo detto già altre volte con te è inammissibile che chi investe in durate brevi deve avere rendimenti negativi è chiaro che questa situazione deve cambiare se si vuole dare un segnale che il ritorno alla normalità è vicino o dovrebbe essere vicino è chiaro che bisogna mutare anche questa tipologia di politica è sicuramente aiutato il paese a uscire dalla difficoltà degli ultimi mesi diciamo però sicuramente è una posizione che non va reiterata occorre far sì che si rientri nella normalità anche se è difficile pensare di un ritorno alla normalità in tempi così rapidi perché al di là di quello che siamo un'epoca consumistica volenti o nolenti e amino o non amino questa tipologia di termine comunque siamo diventati dei consumisti però non va dimenticato che c'è anche una fetta della popolazione magari silenziosa che però è rimasta abbastanza scioccata da questa situazione della pandemia e quindi ritorno al discorso quasi inizialmente attenzione a valutare se i consumi in effetti rimarranno a livelli molto alti come sono stati nel passato Allora abbiamo il comunicato stampo ovviamente i tassi di interesse lo vedete anche insomma dal grafico sono rimasti invariati quindi siamo ancora negativi per quanto riguarda il deposito fondo il tasso deposito fondo mentre insomma la tasso di interesse rimane a zero facciamo vedere a questo punto l'intersigla e poi andiamo a leggervi le primissime righe del comunicato e allora il consiglio direttivo ritiene che i progressi nella ripresa economica non inquadriamo magari il comunicato al momento come ho anche comunicato poco fa con la regia grazie allora il consiglio direttivo ritiene che i progressi nella ripresa economica e verso il suo obiettivo di inflazione a medio termine consentano una graduale riduzione del ritmo degli acquisti di attività nei prossimi trimestri dunque il quantitative easing rimane così com'è sappiamo che insomma la BCE ha intenzione di interromperlo nel mese di marzo 2022 ovviamente è ancora necessario un accomodamento monetario finché l'inflazione si stabilizzi all'obiettivo di inflazione del 2% nel medio termine poi tra poco ci torniamo perché ci saranno anche le proiezioni di cui parlava Manuela attuale incertezza mantenere flessibilità e libertà insomma nella conduzione politica monetaria insomma il consiglio direttivo è pronto a intervenire nel caso la situazione peggiorasse ma così a naso direi che non è cambiato nulla ma ripeto sono le prime righe primo trimestre 2022 acquisti netti di attività insomma il PEP ha un ritmo inferiore rispetto al trimestre precedente cesserà gli acquisti netti di attività alla fine di marzo 2022 quindi confermato esatto ridurrà ulteriormente insomma il ritmo come comunque d'altra parte era stato già anticipato a settembre verrà esteso l'orizzonte di reinvestimento per il programma straordinario reinvestiremo i pagamenti principali di titoli in scadenza acquistati nell'ambito del PEP almeno fino alla fine del 2024 qui si parla del cosiddetto app in senso gli acquisti degli asset la pandemia ha dimostrato che in condizioni di stress la flessibilità nella progettazione e la conduzione degli acquisti ha contribuito a contrastare la trasmissione alterata della politica monetaria ok quindi sostanzialmente è necessaria flessibilità a fronte di una pandemia che continua a colpire e proprio perché c'è questo stress nei confronti dell'economia in generale insomma siamo pronti per fare qualunque cosa la flessibilità rimarrà un elemento della politica monetaria forte, fortissima poi qui si parla appunto del programma di acquisto di asset di beni il cosiddetto app e in questo senso il ritmo mensile di 40 miliardi nel secondo trimestre e di 30 miliardi nel terzo trimestre nell'ambito del programma di acquisto della app a ottobre 2022 rimarrà 20 miliardi di euro per tutto il tempo necessario a rafforzare l'impatto accomodante dei tassi ufficiali dunque insomma 40 miliardi nel secondo trimestre 2022, 30 nel terzo trimestre e poi da ottobre l'app si stabilizzerà insomma per un programma di acquisto continuativo, poi sui tassi di interesse rimaniamo fermi come detto 0,025 meno 0,50 negativo, inflazione simmetrica del 2% in linea con la strategia i principali tassi di interesse, ok fino a che l'inflazione non raggiungerà il 2% sarà disposta a ogni tipo di intervento tra poco vediamo anche le proiezioni che sono altrettanto importanti eh sì anzi appunto in questo contesto visto che bene o male diciamo sono tutte conferme che arrivano Christine Lagarde insomma aveva già anticipato parlando nei giorni scorsi chiaramente poi bisognava aspettare anche la decisione della Fed perché sappiamo molto bene che le banche centrali comunque vanno a braccetto indipendentemente dal fatto che poi ciascuna fa riferimento a una situazione economica diversa però le conferme sono arrivate e a questo punto diventano davvero cruciali le proiezioni quello che dicevamo in apertura è che molti analisti dicevano anche i giorni scorsi cioè il fatto che ci debba essere equilibrio quindi da una parte ancora sostegno per il tema Covid per quello che ancora non è chiaro per le incertezze che permangono però sarà interessante capire queste proiezioni dove porteranno eventualmente altre decisioni della Banca Centrale Europea Angelo un commento a caldo anche da parte tua ovviamente che idea ti sei fatto da questo comunicato aspettando il resto? Io non ho disposto sull'economia del Corriere ho citato il decapping cioè l'andamento divergente dei tassi di interesse statunitensi di area euro che è difficile che abbia costo nell'arco dei tempi in cui viviamo perché è una situazione tra i paesi occidentali che tende ad essere più o meno simile ora dal punto di vista delle dichiarazioni ieri e oggi una sorta di decapping potrebbe essere cioè negli Stati Uniti con una tendenza ad altare i tassi in tempi brevi eurozona in tempi non molto più lunghi, più lunghi sicuramente quindi potrebbe essere su un arco temporale nel corso dei quali i tassi di interesse americani anche con durata breve, anche medio-lunga ma più che altro breve perché la medio-lunga è già diversa potrebbero aumentare mentre il neurozona potrebbe rimanere relativamente stabile per un certo periodo di tempo quindi questa è la conferma di quanto vi dicevo inizialmente che secondo me siamo due popoli diversi più consumatori là meno consumatori di qua quindi a fronte di questa tipologia di mentalità e forse anche di ricchezza globale è chiaro che occorre prendere delle decisioni leggermente diverse, non diversissime perché comunque l'occidente è occidente, sia negli Stati Uniti sia in eurozona diverso ovviamente sarebbe parlare dell'Oriente ma quello è un altro mondo ancora quindi non mi sorprende che la BCE in questo momento sia rimasta ancora abbastanza stabile nel senso che non ha modificato tantissimo quelle che erano le aspettative e quindi da questo punto di vista non si è fatta, io prima dicevo che si avrebbe fatto influenzare però non si è fatto influenzare tantissimo né dalla banca centrale americana né da quella del Regno Unito Ok, ok, poi comunque appunto aspettiamo le proiezioni ma quello che dicevamo anche prima visto che è stato confermato il PEP, la scadenza a fine marzo sarà da interessante capire se magari comincerà ad annunciare eventuali modifiche post fine marzo Angelo è quello che dicevamo poco fa perché appunto che fosse confermato che se arrivasse fino a fine marzo lo sapevamo già vedere quale sarà il prossimo timing ecco che poi era un po' il tema sempre che ha accompagnato la Fed sapevamo già che sarebbe iniziato il TEP, però non sapevamo con quale accelerazione sarebbe poi andato avanti ecco, credo che questo sarà interessante, sei d'accordo? La tua riflessione è giustissima perché in effetti andrà valutato come sarà si confermerà l'inflazione nel corso dei primi mesi del prossimo anno perché se davvero dovesse continuare a salire in maniera così importante perché comunque i produttori di materie prime hanno stati presti per venire in casa di quello che non hanno incassato negli ultimi due anni però i loro prodotti, ciò che viene prodotto tramite queste materie prime viene venduto comunque in maniera abbastanza importante al dettaglio, è chiaro che l'inflazione tende ad aumentare al di là di quelli che possono essere state le ipotesi sia della Fed era prima sia della Banca Centrale Europea dopo quindi da questo punto di vista è cruciale l'arco temporale che va da gennaio a marzo per vedere se in effetti il costo della vita aumenterà in maniera tale da indurre anche la Banca Centrale Europea che sicuramente tra le banche centrali più importanti al mondo e quella più conservativa solitamente in linea con quella che è la mentalità dei paesi in cui opera sarà costretta a rincorrere gli Stati Uniti e il Regno Unito o se invece viceversa sarà esattamente il contrario perché magari si rende conto che i presti aumentati di tanto hanno ridotto la propensione dei consumi o meno Allora ti faccio un'ultima domanda poi andiamo con Giacomo a vedere anche la reazione dei mercati ma è possibile pensare all'inizio di anno perché sai Angelo diciamo continuamente beh prima o poi arriveranno delle conferme avremo meno punti interrogativi quindi chiaramente meno incertezza e più possibilità di agire anche con più appunto sicurezza è possibile che inizieremo l'anno con una situazione veramente variegata dei mercati mi spiego meglio cioè con per esempio l'America più rassicurata dalle scelte fatte da Powell e un'Europa che invece naviga ancora vista proprio perché come hai detto anche tu sarà interessante capire cosa succede da gennaio a marzo e quindi ancora per il primo trimestre saremo ancora molto molto interlocutori e quindi questo potrebbe portare a una differenziazione effettivamente nei mercati cosa ne pensi? Poi andiamo a vedere la reazione appunto dell'Europa al comunicato In effetti è giusto quanto dici perché potrebbe verificarsi esattamente il contrario di quanto è accaduto nei costi dei mesi passati cioè che le impertesse vadano a mordere l'Eurozona più di quanto possa essere successo negli Stati Uniti io però al tempo stesso l'impressione che l'Eurozona si sia mossa in maniera popolata nel senso che conoscendo bene quest'area produttiva ma anche quest'area di consumatori può darsi che dalle previsioni si possa ritenere che l'inflazione non potrà salire più di tanto non ai livelli con cui è salita negli ultimi mesi quindi al di là del fatto che di certezze in questo campo non esistono assolutamente perché può cambiare tutto in qualsiasi momento come nel resto della vita peraltro quindi non incontriamo troppo la finanza di situazioni difficili e così la vita è questa e quindi sì il ragionamento che hai fatto è molto sensato mi trovo molto d'accordo nel senso che si potrebbe essere che l'Eurozona paghi nel corso dei prossimi mesi ciò che non ha pagato oppure che ha pagato in misura minore rispetto a quanto hanno pagato le borse americane nel corso delle ultime settimane Allora andiamo a vedere i mercati poi torno ancora più in un istante perché sono curiosa su un'altra cosa ancora sul tema dell'inflazione mettendo a confronto proprio situazione americana europea però i mercati che dicono Giacomo? Beh la reazione c'è più che degli indici dei mercati ovviamente si parla di valute e di rendimento dei tassi di interesse questo è il BTP italiano nel decennale siamo all'1% 0,996 e rispetto a ieri c'è un bel balzo in avanti che ieri aveva chiuso a 0,91 e per quanto siano movimenti minimi sappiamo che nell'ambito dei titoli di Stato sono comunque movimenti non indifferenti anche il Bund tedesco decennale sta per accarezzare la media 200 e quindi un livello di resistenza anche interessante meno 0,32% ieri aveva chiuso a meno 0,38 quindi è un gran bel balzo in avanti per curiosità vediamo anche gli americani che in effetti sono anch'essi in rialzo anche se allineati con quelli con i valori della vigilia 1,47 il T-Note 1,89 il trentennale che invece aggiorna i massimi della vigilia siamo alla terza seduta consecutiva con un aumento del rendimento e poi le valute l'euro al momento è molto molto forte 1,1329 più 0,37% o forte poi per modo di dire perché comunque come vedete siamo all'interno di una lateralità nelle zone basse diciamo così però sta guadagnando terreno se guardiamo esatto se guardiamo un grafico a 5 minuti notiamo come la risalita c'è e c'è c'è stato alle 13.45 adesso siamo già a metà però di quel guadagno per cui forte ma sta lentamente ritracciando quantomeno verso la metà dei guadagni nella pubblicazione del comunicato mentre invece la sterlina continua a salire più 0,6% grafico sempre a 5 minuti sta consolidando i massimi odierni 1,337 ma lo sta facendo insomma da diverso tempo la pubblicazione è stata alle 13 e quindi insomma è quasi un'ora che sta consolidando l'euro potrebbe invece già raffreddarsi quantomeno osservando un grafico molto molto sottile appunto a 5 minuti allora Angelo sì aspetta ti lascio commentare su quanto ha raccontato Giacomo se vuoi dire la tua se no poi ti aspetta sull'obbligazione esatto appunto Angelo è un esperto la reazione esattamente la reazione del mercato e poi torniamo su un'altra domanda il rendimento dei titoli nazionali italiani chiaro che sono importantissimi visto il debito nostro e visto le continue emissioni che hanno a luogo ogni mese su tutte le durate dei titoli di Stato italiani quindi sicuramente questo aspetto è un po' una reazione secondo me nervosa perché probabilmente qualcuno si aspettava dalla Banca Centrale Europea un intervento più vicino non dico simile a quello degli Stati Uniti ma più vicino invece la quasi assoluta invarianza ha fatto sì che qualcuno tema che poi l'Europa resta indietro sarà costretta ad rincorrere i movimenti degli Stati Uniti e di conseguenza adattare e far sì che i rendimenti possano salire per essere attrattivi nei confronti dei miei investitori comunque non va dimenticato che questi movimenti potrebbero essere anche movimenti di breve costo di reazioni immediate così come lo è il cambio se l'euro dovesse diminuire di valore secondo me di là del costo che aumenterà per quanto riguarda l'importazione di petrolio però sarebbe un bene perché consente alle nostre attività di esportare negli Stati Uniti in maniera sempre più massiccia io fondamentalmente volevo tornare sul tema dell'inflazione e sulla differenza anche di considerazione tra Powell e Lagarde nel senso che ieri con Powell ci siamo tolti dal termine inflazione questa veste di transitorietà su cui Powell è rimasto comunque per tanto tempo c'è tanto tempo perché comunque era da mesi che si parlava di rialzo dell'inflazione e appunto ha detto basta non è più transitoria era abbastanza chiaro Lagarde ecco invece il tema dell'inflazione tu prima per esempio dicevi beh ma prima o poi l'inflazione avrà una battuta d'arresto quindi qui dovremmo considerarla ancora transitoria secondo te in Europa o anche su questo fronte Cristi Lagarde seguirà a tuo parere potrebbe seguire perché poi insomma usiamo il condizionale che è sempre d'obbligo potrebbe seguire la visione di Jerome Powell il presidente della Fed ha cambiato parere dopo la conferma di essere presidente perché se ricordi prima di essere che a transitorio sono dopo era già quando è stato riconfermato ha cambiato passo certo assolutamente sì è stato un po' un gioco delle parti no 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 ma la verità non è una battuta insomma va bene per quanto riguarda la Luzona nonostante Lagarde sia rimasta per tantissimi anni presidente del fondo monetario quindi abbia vissuto negli Stati Uniti però è francese e quindi comunque di matrice europea di Eurozone quindi può darsi che lei avendo vissuto negli Stati Uniti adesso tornata in Eurozone quindi vivendo questa fase qua da noi tornarsi che abbia verificato non solo lei ma anche i componenti del Consiglio della BCE abbiano verificato che in effetti in Europa e in Eurozone in generale è molto più difficile che i prezzi salgano con una velocità tale anche considerando che il livello dell'occupazione è sensibilmente inferiore a quella che è negli Stati Uniti e che l'elasticità delle aziende è molto più bassa rispetto a quella che c'è oltre l'oceano quindi da questo punto di vista non mi sorprenderebbe che in questa fase il presidente della BCE con gli organi che sono competenti a decidere questo aspetto abbiano preferito soprasedere nel senso che come dicevamo prima ti ricordi gli inizi tra gennaio e marzo e vedere cosa succederà possono aver rinviato la decisione più importante tipo quella che ha fatto gli Stati Uniti o non credo quella del Regno Unito in tempi così brevi una politica più aggressiva nei confronti dei tassi che metterebbe in atto solo nel corso del prossimo anno quindi sicuramente è molto complesso valutare questa situazione perché siamo ripeto pur essendo occidentali siamo due mondi diversi quindi io quello che penso è che come dicevo prima avendo vissuto lei tanto tempo là magari si è accorta che in effetti sono due mondi abbastanza lontani che difficilmente potranno essere identici in tempi brevi poi come dicevo prima l'andamento divergente dei tassi può sussistere per un certo periodo ma non per tanto tempo ok un'ultima domanda forse ad Angelo poi lo salutiamo Giacomo intanto ribadiamo quanto deciso dalla BCE deciso o non deciso se vogliamo in realtà qualcosina c'è ha confermato i tassi di interesse dunque il risaggio di riferimento resta fermo allo zero mentre quelli sui depositi è negativo meno 0,5% nel primo trimestre 2022 la montata del PEP sostanzialmente sarà ridotto dunque insomma abbiamo un ulteriore allentamento da quel punto di vista mentre invece è confermato il programma di acquisto di asset ritmo mensile 40 miliardi di euro secondo trimestre 2022 che verranno poi ridotti a 30 nel nel trimestre nel trimestre successivo c'è un messaggio di Luciano che voglio leggere così magari possiamo far commentare ad Angelo e poi appunto lo salutiamo perdonami Giacomo se ti ho interrotto magari salvi per fare la domanda tu posso leggere io ero curioso di sapere d'Angelo magari lo leggiamo dopo se si aspetta il rally di Natale siamo sempre lì ieri le borsa hanno dimostrato di tutto sommato voler provare a mettere le basi manca poco però insomma una settimana può anche essere utile a questo scopo che dici? sarebbe comodo per tutti per gli investitori per i fondi di investimento per le banche che hanno tanti titoli in deposito quindi piacerebbe molto che questo accadesse è molto incerto gli anni passati c'erano più tra virgolette sicurezze oggi ce ne sono molto meno perché siamo proprio di fronte a un ipotetico cambiamento non dico globale però un cambiamento abbastanza importante perché se si torna a tassi crescenti è chiaro che soprattutto per le obbligazioni saranno tempi difficili per i mercati azionari secondo me è un po' meno perché anche se nell'arco di quest'altro anno come fa capire la banca centrale americana di tassi salgando di tre volte quindi di 0,75 è chiaro che arriveranno sempre livelli bassi quindi se i consumi dovessero ottenere negli Stati Uniti penso di sì ma non ne sono certo se dovessero ottenere anche un aumento a 0,75 non pregiudicherebbe sicuramente l'aumento della posizione l'aumento delle vendite quindi non avrebbe riflessi particolarmente pesanti perché credo che le aziende a uno 0,75 possano trasferirlo e non completamente ma in buona parte sul prezzo del consumo al prezzo del taglio quindi secondo me i risultati sarebbero ancora molto buoni ecco per quanto riguarda il rally io credo che ci possano essere adesso fino all'altra zona avrei detto di no adesso qualche possibilità c'è per chiarezza su quello che può essere il futuro dei tassi di interesse quindi che anche gli investitori possano pensare che in definitiva per un arco temporale ancora non lunghissimo però le quotazioni potrebbero tornare su livelli ancora superiore a quelli di oggi parlo del mercato azionario sì sì mercato azionario va bene Angelo Durusiani grazie davvero e a presto sulle fonti tv buona giornata e grazie per essere stato con noi grazie a voi grazie dell'invito arrivederci grazie e allora no intanto io lo comincio a leggere il messaggio di Luciano perché effettivamente vabbè nasconde una buona dose di polemica però in realtà dice delle cose reali sul discorso dei tassi siamo al solito giochino soprattutto in un'economia convalescente cioè si parla che i tassi devono aumentare e poi se ne parla con insistenza ma poi si aspetta sempre perché subentra la variante si parlava dell'equilibrio di dosare insomma quella che è rialzo dell'inflazione quindi con le doverose misure che dovrebbe prendere la banca centrale ma poi sullo sfondo c'è sempre il covid con le varianti che arrivano e quindi questo insomma fa temporeggiare un po' il discorso che sta facendo l'amico e così i mercati si abituano ulteriormente al fatto che le banche centrali giochino un ruolo veramente fondamentale e in questi giorni io per esempio ho chiesto ai miei ospiti spesso fino a quando avranno questo ruolo una domanda da 100 miliardi di dollari però interessante capire effettivamente quando usciranno un po' di scena le banche centrali forse ancora presto perché rimangono tutte queste incertezze insomma Giacomo la Fed ha già messo le basi in realtà per uscire anche se come dicevi tu in maniera molto molto lenta anche la Bank of England ha messo le basi ma in maniera ancora più lenta rispetto alla Fed però riflettiamo anche su questo aspetto la BCE quando stiamo ancora aspettando le proiezioni ma la sensazione questi erano rumors diffusi proprio in questi giorni è che la BCE possa prevedere l'inflazione oltre il 2% l'anno prossimo ma attorno al 2% o addirittura inferiore sia nel 2023 sia nel 2024 questo cosa vuol dire che l'inflazione è già sotto controllo senza che ci sia l'esigenza di alzare i tassi di interesse e se alza i tassi di interesse la Garda nel 2022 o prossimamente riduce la domanda e quindi c'è il rischio che una ripresa che quella europea è ben al di sotto di quella americana in Europa non ci sono gli aumenti salariali che ci sono negli States non abbiamo il tasso di disoccupazione al 3,5% assolutamente non abbiamo tutti gli aiuti che sono stati anche stanziati dal governo americano gli americani danno le dimissioni perché stanno ricevendo le hanno incrociato proprio le braccia in questi giorni perché hanno paura di ammalarsi preferiscono stare a casa ma perché lo possono fare perché ovviamente ricevono aiuti noi non potremmo mai fare una cosa del genere quindi a fronte di una ripresa ma è normale cioè noi siamo gli Stati non uniti d'Europa e quindi abbiamo una ripresa economica diversa l'Italia c'era diversa dalla Polonia il Belgio c'era diversa dalla Francia forse ma adesso lo vedremo con la conferenza stampa di Christine Lagarde potrebbe essere che non ci sia bisogno di quel rialzo dei tassi non dico nel 2022 ma forse neanche nel 2023 e a proposito di equilibrio regia vediamo insieme il cambio euro-dollaro nel grafico orario perché è successa una cosa interessante mi avvicino allo schermo e vi mostriamo cosa sta succedendo da questo fronte questo è un grafico orario tendenza ribassista qui c'è scritto Australian dollaro ma vi garantiamo che è euro-dollaro c'è la rottura al rialzo la rottura al rialzo di quello che è una resistenza dinamica di un canale ribassista c'è questa rottura grazie Emanuela che ci ha portato appunto fino a 1,13 e 31 proprio nel momento in cui il comunicato è stato emesso al di sopra di entrambe le medie mobile a 50-200 e effettivamente prima abbiamo detto forse sta già rallentando l'euro-dollaro vedete com'è importante non fidarsi troppo del grafico a 5 minuti il grafico orario ci mostra come in realtà l'euro si stia ancora rafforzando e stia consolidando quella rottura al rialzo che vediamo nel grafico a un'ora esatto esattamente insomma però adesso appunto le proiezioni diranno tutto intanto noi stiamo attenendo di collegarci con un altro ospite per capire un po' quali sono anche le percezioni rispetto a questo comunicato che di fatto come abbiamo detto insomma non aggiunge né toglie niente fondamentalmente a quello precedente ma sarà poi cruciale sentire poi le parole anche come si rivolge sai che si dice sempre Giacomo dell'atteggiamento dei numeri 1 degli istituti centrali ma in questo caso ancora di più perché chiaramente ci si aspetta comunque qualcosa anche se non in termini operativi immediati come ha fatto Powell perché Powell si sapeva già quindi sicuramente Christine Lagarde non voglio dire non aggiungerà molto a quello che abbiamo letto nel comunicato ma anche solo magari un cenno in più rispetto a quello che potrebbe accadere il prossimo anno potrebbe effettivamente dare impulsi differenti ai mercati dipende un po' cosa succederà i mercati invece andiamo solo a fare un giro sugli indici europei e così capiamo insomma bene o male l'impostazione oggi era rialzista quindi continuano a applaudire alla Fed perché per ora solo alla Fed poi vediamo se ci sarà la stessa conferma per la BCE sì sì gli applausi continuano a esserci hanno leggermente rallentato ma credo fisiologicamente il gap up continua a essere chiaro questo è sempre il grafico a un'ora del Dax di Francoforte siamo ancora sulla Highland che si va a formare quando c'è il vuoto rialzista o ribassista che sia Milano più 1,05% Milano ieri era stata anzi la più performante perché poi le borse europee ieri non è che abbiano brillato però l'operazione bancaria annunciata B per Banca Carige ha in qualche modo dato più euforia a Piazza Affari rispetto agli altri Caccaran più 1,4% e anche Madrid più 1,67% leggermente meno forte l'andamento di Londra che sappiamo deve anche gestire l'annuncio della Bank of England più 0,9% mentre lo SMI di Zurigo il più vivace lo SMI di Zurigo oggi ha aggiornato mi correggerò se sbaglio no è corretto ha aggiornato il proprio massimo storico a 12.796 con un gran bel gap up rialzista ottimo Francesco Anfossi buongiorno caporedattore Economia Famiglia Cristiana ben trovato Francesco grazie per essere con noi un collega che naturalmente segue sempre l'economia e quindi sarà stato come noi a leggere il comunicato allora così a caldo anche se ormai il comunicato è uscito da mezz'ora cosa ne pensi e soprattutto cosa ti aspetti da Christine Lagarde quando finalmente parlerà ai giornalisti e agli investitori intanto non è cambiato devo chiederti una cortesia perché io mi sono collegato adesso e non ho visto le ultimissime quindi se me le puoi sintetizzare con un titolo no le ultimissime sono assolutamente le ultimissime sono che è stato confermato il PEP il programma antipandemia a fine marzo e poi fondamentalmente che i tassi non verranno toccati al momento quindi non ci sarà un rialzo dei tassi e che cos'altro possiamo dire a Francesco queste sono le cose fondamentali non è cambiato molto rispetto al comunicato precedente però però bisognerà capire cosa dirà sull'inflazione cosa dirà appunto sul proseguo quando finirà effettivamente il PEP a fine marzo Francesco insomma cosa ti aspetti dal discorso di Lagarde come si si relazionerà con i mercati ma secondo me succederà questo bisogna vedere innanzitutto c'è una differenza sostanziale tra la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea perché perché nello statuto della Banca Centrale Europea c'è scritto che lo scopo principale della Banca Centrale Europea è domare l'inflazione mantenere l'inflazione al 2% c'è proprio scritto nello statuto la Federal Reserve anche perché ha un background culturale economico molto diverso gli americani sappiamo sono la patria del liberismo non ha questo tipo di vincolo e quindi è molto più avvantaggiata nel poter modificare le politiche di espansione le politiche finanziarie questo cosa significa in termini concreti che nel caso ci sia un problema come c'è in questo momento cioè un bivio noi dobbiamo capire se domare l'inflazione perché in questo momento c'è un'inflazione che sta crescendo e favorire la crescita economica la ripresa economica noi abbiamo questo quello che viene definito in termini tecnici trade off o decidiamo di domare l'inflazione e quindi cosa facciamo diamo una stretta ai tassi no facciamo un tipo di politica monetaria rigorista alziamo il tasso di interesse oppure continuiamo con questo allargamento con questa espansione e allora cosa succede succede che non favoriamo più la ripresa in questo caso la federal reserve e la banca centrale europea hanno scelto due strade sempre che quella della bce si chiami strada cioè la banca centrale europea scusa comincio dalla federal la federal reserve ha deciso nonostante l'impennata i problemi di ripresa ha deciso di stringere no per domare un po' l'inflazione mentre la banca centrale europea ha deciso di non decidere sostanzialmente giusto? non farà per il momento nulla andrà avanti tutto così perché si trova anche un po' impacciata in questo dilemma vedremo nei prossimi giorni cosa cosa dirà anzi nei prossimi minuti nei prossimi secondi cosa dirà Christine Lagarde il fatto che almeno così pare dal comunicato poi appunto sentiremo cosa dice Christine Lagarde il fatto che abbia scelto una non strada o abbia fatto una non scelta insomma indipendentemente da come vogliamo definirla tu lo imputi al fatto che appunto la situazione europea essendo diversa da quella americana lascia ancora troppi dubbi su quella che deve essere effettivamente la strada da prendere oppure per qualche altro motivo cioè come lo consideri questo non questa non decisione al momento ripeto la non decisione almeno lo spero ma è sicuramente così non dipende dal fatto che non sappiano cosa fare non è che si trovano disorientati semplicemente hanno deciso di navigare a vista e perché hanno deciso di navigare a vista perché in questo momento la situazione legata alla pandemia non ci permette di fare previsioni in tempi lunghi dobbiamo vedere come va questa maledetta variante Omicron come va la pandemia cosa succede a livello di vaccini cosa succede a livello di perché poi significa smart working significa stretta economica significa perdita di posti di lavoro capisci è tutto un problema legato a questa pandemia che purtroppo non se n'è ancora andata ok questo è il motivo principale per cui la Lagarde probabilmente a meno che non ci siano colpi di scena dirà che cercherà un po' di arrabbattarsi perché perché in questo momento non hanno non sanno non hanno la sfera di cristallo non sanno cosa fare sicuramente l'inflazione non è ancora così alta da poter determinare una stretta sui tassi questo mi sembra di poterlo dire ma sì 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 prego scusami non volevo interromperti ti stavo facendo un'altra domanda perché mi pare che sia sull'1,5% a livello europeo se non correggetemi se sbaglio gli ultimi dati macroeconomici non ce li ho però non abbiamo ancora non ha ancora superato comunque quello che ti volevo dire quindi secondo te in Europa è ancora transitoria l'inflazione sì sì è ancora transitoria assolutamente a differenza degli Stati Uniti dopo dove non solo la Federal Reserve ha più ha la possibilità di muoversi più con più agio con più agio diciamo così con maggiore determinazione proprio perché non è vincolata a tenere sotto controllo l'inflazione ma partecipa anche al piano di sviluppo della nazione americana quindi investimenti e quindi denaro più facile no per farla per dirla in maniera insomma in parole povera la BCA è più vincolata però anche anche la BCA ovviamente pensa alla ripresa del continente europeo dell'Unione Europea quindi vediamo cosa succederà sicuramente è più incerta perché sta cercando di valutare quel che succederà a livello pandemico ok poi molto importante questa variante Omicron ha scompaginato i progetti anche finanziari no no ma infatti quello lo hanno messo in evidenza tutti è chiaro che laddove ci potesse essere ancora un po' di incertezza legata proprio a incertezza sulle previsioni infatti oggi anche le proiezioni sono importanti ma questa incertezza è stata insomma come dire aumentata di più da questa variante che improvvisamente ha scombussolato i paesi dell'Europa molti dei quali hanno dovuto attivare anche delle restrizioni pesanti insomma e quindi chiaramente come si fa a intuire cosa succederà all'economia ci siamo già passati una volta Francesco ovviamente in questo momento ci sono i vaccini che aiutano però sappiamo bene che non sapendo esattamente quanto potrà effettivamente fare questa variante non sappiamo nemmeno quanto l'economia verrà penalizzata quindi è chiaro che in questo momento qualsiasi tipo di previsione di proiezione è molto molto aleatoria ecco mi permetto di usare questa parola giusto? Sì io vorrei anche sottolineare la sapienza politica di Mario Draghi una volta una volta tanto no Mario Draghi l'ho elogiato anche altre volte ma mi è piaciuto molto perché nonostante Mario Draghi sia addirittura l'ex governatore della Banca Europea della Città Europea quindi abbia un profilo europeo a tutto tondo a 24 carati non ha esitato ad alzare i ponti elevatoi dell'Italia di fronte al pericolo di un contagio della variante Omicron facendo arrabbiare anche come sapete la Commissione Europea ma lui ha detto in questo momento abbiamo un vantaggio che tra l'altro ci siamo ci siamo meritato grazie alla campagna vaccinale grazie alla cortezze che abbiamo adoperato grazie al Green Pass che è stata un'idea italiana sostanzialmente anche se poi è stata è stata consigliata anche in Europa ma noi siamo stati quelli che con più determinazione abbiamo adottato l'arma del Green Pass addirittura abbiamo un super Green Pass e adesso abbiamo alzato i ponti elevatoi sapete che chi arriva dall'Europa e vuole entrare in Italia è sottoposto a tutta una serie di controlli Green Pass tampone quarantena eccetera eccetera ha violato le leggi di Schengen della libera circolazione no no ha protetto gli italiani e questo non è soltanto per questioni evidentemente etiche e morali no? perché la vita è la prima cosa che va salvaguardata ma anche per motivi economici no? la ripresa se arriva la variante Omicron viene ritardata ulteriormente quindi sia lode a Draghi bisogna fare un elogio a Draghi per aver preso questa decisione che probabilmente non è stata nemmeno facile anche se lui addirittura che non ha detto non c'è niente da riflettere no? ok ok beh insomma sarà interessante appunto vedere quindi io ti ringrazio Francesco cosa succederà proprio con Cristina Garda anche per vedere come i mercati si preparano a chiudere quest'anno che sicuramente è stato un anno a livello appunto di mercato record quindi ne parlavamo poco fa del rally di Natale evidentemente dopo le decisioni di Powell vediamo quali saranno quelle di Lagarde per capire come questi 15 giorni andranno prima della fine del 2021 grazie Francesco Anfossi grazie a voi come sempre a presto a presto sulle fonti tv facciamo un giro veloce sui mercati perché poi attendiamo naturalmente l'inizio della conferenza stampa ci raggiungerà anche la nostra Alexandra Giorgeva per la traduzione live quindi noi saremo in onda fino al termine della conferenza stampa e poi Giacomo Iacomino proseguirà naturalmente con il pomeriggio sui mercati live sulle fonti però mercati credo che siano ancora ben impostati no Giacomo? Ben impostati un ultimo recap di quello che ha deciso la BCE tassi interesse fermi forward guidance invariati riduzione del ritmo degli acquisti di attività nei prossimi trimestri ovviamente pronto consiglio direttivo ad adeguare tutti i suoi strumenti il termine del programma PEP confermato a fine marzo 2022 alzati gli acquisti mensili up quindi il programma di acquisto asset a 40 miliardi nel secondo trimestre a 30 nel terzo da ottobre 2022 gli acquisti del programma di acquisto asset torneranno a 20 miliardi al mese mentre viene allungato l'orizzonte temporale dei reinvestimenti PEP qui andiamo molto sul tecnico almeno fino a fine 2024 le borse diceva giustamente Manuela Dax più 1,5% anche il Miba leggermente rallentato più 0,99 quindi è sotto l'1% di guadagno ma comunque ancora in fase di forza Caccaram più 1,35 Madrid più 1,68 chiudo con l'oro che non l'abbiamo ancora mostrato che si sta lentamente risalendo 1,786 1,787 il livello di resistenza però continua a essere questo i 1,790 dove si incrociano media 50 e media 200 insomma è un muro di cemento armato in questo momento sì assolutamente che gli analisti non riescono a capire cosa stia succedendo all'oro perché questa insomma come dire questo atteggiamento nei confronti del bene di rifugio per eccellenza andiamo in pubblicità Giacomo e poi naturalmente torniamo per la conferenza stampa di Christine Lagarde restate con noi e allora manca poco meno di due minuti alla conferenza stampa di Christine Lagarde vi mostriamo per l'ultima volta l'andamento della sterlina perché oggi per adesso la protagonista è la Bank of England non tanto la banca centrale europea perché il rialzo dei tassi c'è stato dallo 0,1 allo 0,25 mantenendo il quantitative easing invariato l'opposto della Fed e allora la sterlina ha reagito esattamente in questo modo questo è un grafico orario era in una fase di debolezza la sterlina ha raggiunto anche un minimo a 1,31 e qui ci troviamo però al 12-13 dicembre la lieve ripresa ha poi coinciso con boom questa situazione proprio al momento della pubblicazione del comunicato stampa della Bank of England portando la sterlina e sta ancora mantenendo questa forza a 1,33 e 72 questo vuol dire che è vicino a 1,33 8 e non distante da 1,34 un movimento improvviso perché gli analisti come detto non erano preparati diciamo a questa scelta da parte della Bank of England si aspettavano che tutto rimanesse fermo come a settembre dove invece gli analisti si aspettavano un movimento dei tassi di interesse questo perché perché nel Regno Unito c'è la variante Omicron che si sta espandendo a macchia d'olio molto di più rispetto che all'Unione Europea detto questo la sensazione poteva essere ok aspettiamo a ridurre diciamo così il costo ad aumentare il costo del denaro riducendo la domanda perché magari la ripresa può essere più debole proprio a causa della Omicron e invece no la Bank of England Andrew Bailey decide di sfidare la variante Omicron con questo atteggiamento sicuramente hawkish e la sterlina in questo momento non dico che ne stia beneficiando però si sta apprezzando sicuramente noi con la linea gialla abbiamo anche tracciato quella che era la resistenza di massima di lungo periodo sul cambio dollaro sterlina ed è questa resistenza che è stata rotta al rialzo proprio in questo punto fino a 1.3380 che è raggiunto proprio in questo preciso istante beh insomma detto della Bank of England adesso non ci resta che ascoltare che cosa avrà da dire Christine Lagarde soprattutto per le proiezioni economiche e sull'inflazione sul PIL soprattutto sull'inflazione perché abbiamo una situazione delicata ecco sta arrivando Christine Lagarde linea ad Alexander Gergeva qualche foto di routine mi tolgo la mascherina così potreste fare meglio le foto grazie a tutti grazie a tutti si stanno facendo le prove tecniche perché ovviamente Luis De Guindos il vicepresidente ha il covid dunque si connetterà da distanza da remoto e tra qualche istante inizia proprio la conferenza stampa di Christine Lagarde queste sono le ultime appunto prove tecniche per potersi collegare anche con il vicepresidente Luis De Guindos grazie a tutti buon pomeriggio buon pomeriggio benvenuti alla nostra conferenza stampa sono in compagnia del presidente della vice Christine Lagarde e siamo in connessione con il vicepresidente De Guindos come abbiamo annunciato questa domenica De Guindos è positivo al covid-19 dunque è in isolamento sta molto bene e sta recuperando molto bene io sono Kreuzlel più tardi quando farete le vostre domande vorrei chiedervi di accendere le vostre camere per poter vedere per poter vedervi appunto do la parola al presidente Lagarde grazie grazie mille buon pomeriggio a tutti voi il vicepresidente che è con noi solo con l'audio ed io vi diamo il benvenuto alla nostra conferenza stampa la economia dell'eurozona sta continuando il recupero la ripresa il mercato del lavoro sta migliorando grazie al sostegno di politica fiscale la crescita sta continuando in maniera molto moderata però ci aspettiamo un rialzo forte di nuovo nell'anno prossimo la variante Omicron hanno ecco obbligato alcuni paesi di ridurre la libertà dei cittadini e soprattutto di aumentare le restrizioni per alcune industrie ci sono mancanze ecco c'è una mancanza di ovviamente lavoratori e prodotti questo sicuramente è un problema per il outlook di breve termine ma tutto sommato nonostante la crisi sanitaria che sta continuando ancora tantissime persone sono vaccinate e i cosiddetti booster campaigns stanno andando molto bene sono state già lanciate la società sta molto meglio e riesce a risolvere in maniera migliore ovviamente questo sicuramente migliora l'impatto della pandemia sull'economia dell'eurozona parliamo ovviamente dell'incremento dei prezzi dell'energia e soprattutto questo è perché la domanda è molto più veloce rispetto all'offerta l'inflazione rimarrà elevata nel breve termine secondo noi ma nel corso dell'anno prossimo rallenterà l'outlook dell'inflazione è stato rivisto al rialzo ma l'inflazione è proiettata a rimanere vicino e sotto il 2% come detto nel medio termine il progresso della ripresa economica verso il nostro target di inflazione di medio termine ci sarà passo dopo passo dopo una riduzione del nostro PEP e soprattutto aumento del nostro APP nei prossimi trimestri perché la politica accomodante è tuttora necessaria per raggiungere i nostri target di inflazione di medio termine e per sostenere la crescita economica la incertezza per quanto c'è una crescita ci obbliga di mantenere la flessibilità e soprattutto di condurre una politica monetaria più accomodante tuttora il consiglio direttivo ha deciso di prendere le seguenti decisioni prima innanzitutto nel primo trimestre del 2022 ci aspettiamo di condurre acquisti netti sotto il PEP ad un ritmo più basso rispetto ai trimestri precedenti e continueremo anzi disconiterremo le APP sotto il PEP nel fine di marzo 2022 secondo il consiglio direttivo ha deciso di estendere i reinvestimenti l'orizzonte dei reinvestimenti per il PEP intende di reinvestire i pagamenti per quanto concene tutte le security sotto il PEP almeno fino al 2024 in ogni modo il ruolo futuro del nostro portafoglio PEP andrà ovviamente fissato secondo l'adeguatezza della nostra politica monetaria terzo punto la pandemia ci ha fatto capire che sotto condizioni di stress la flessibilità è disegnata soprattutto la nostra politica monetaria è estremamente flessibile in termini di acquisti di titoli di stato e non solo ci hanno permesso di raggiungere i nostri obiettivi in maniera molto più efficiente all'interno del nostro mandato e in condizioni molto stressanti la flessibilità rimarrà un elemento di politica monetaria qualora è un ecco qualora un problema per la stabilità dei prezzi e non soltanto la ripresa economica in particolare se ci dovesse essere una frammentazione del mercato legata alla pandemia i reinvestimenti del PEP potranno essere riaggiustati in maniera flessibile nei diversi asset classi giurisdizioni e paesi questo potrebbe includere acquistare titoli di Stato grechi per poter ovviamente evitare un'interruzione di acquisti in diverse giurisdizioni che potrebbe sicuramente equiparare la transizione di politica monetaria verso l'economia greca che tuttora si sta riprendendo dopo ovviamente il colpo della pandemia gli acquisti titoli di Stato netti potrebbe essere ripreso sotto la forma del PEP se qualora dovessero esserci shock negativi legati alla pandemia quarto punto in linea con il nostro passo dopo passo riduzioni di titoli di Stato nel programma del PEP per assicurarci che la nostra politica monetaria è consistente con ovviamente l'inflazione abbiamo deciso di acquistare 40 miliardi al mese nel programma APP ovviamente acquisti titoli di Stato e 30 miliardi all'interno dell'APP nel secondo trimestre 2022 da ottobre 2022 in avanti manterremo i acquistinetti sotto l'APP ad un ritmo mensile di 20 miliardi di euro finché è necessario per rafforzare l'impatto accomodante sui nostri tassi di interesse ci aspettiamo che gli acquisti netti diminuiranno notevolmente prima di iniziare ad alzare i tassi di interesse della BCE siamo ovviamente preoccupati per quanto concede i tassi di interesse e soprattutto rifaremo la nostra forward guidance sotto questo punto di vista perché è cruciale per mantenere il grado di accomodamento e stabilizzare l'inflazione vicinissimo al nostro target di inflazione nel medio termine continueremo a monitorare le condizioni di funding da parte delle banche e soprattutto assicurarci che il Teltro 3 non impedirà in qualche modo la transizione liscia della nostra politica monetaria quindi le nostre operazioni Teltro 3 contribuiscono alla nostra politica monetaria come già annunciato ci aspettiamo che queste condizioni speciali applicabili al Teltro 3 scaderanno giugno dell'anno prossimo cioè 2022 abbiamo anche deciso anzi faremo una valutazione per capire questa politica monetaria di tassi di interesse negativi non andrà a limitare la capacità delle banche e la capacità di performance delle banche dell'eurozona e il Consiglio Direttivo è sempre pronto di aggiustare i propri strumenti come appropriato a seconda ovviamente delle circostanze che ci propone ovviamente la pandemia e per raggiungere soprattutto i nostri obiettivi dell'inflazione al 2% nel medio termine ora vi mostro come vediamo l'inflazione nei prossimi trimestri e soprattutto vi faccio vedere la nostra valutazione di condizioni finanziarie e di politica monetaria guardando all'attività economica stiamo ci stiamo aspettando che la ripresa economica continuerà grazie alla robusta domanda domestica il mercato del lavoro sta migliorando con più persone che hanno lavoro e soprattutto partecipano in diversi schemi i progetti di lavoro questo sostiene ovviamente l'incremento dei salari delle famiglie e i consumi delle famiglie i savings i risparmi guadagnati nel corso della pandemia sosterrà fortemente i consumi la recente politica monetaria e fiscale sosterranno la ripresa globale e questo sicuramente è importante l'attività economica sta moderando cioè sta rallentando c'è una crescita più moderata nell'ultimo trimestre però ci aspettiamo che ci sarà un nuovo picco nel secondo trimestre dell'anno prossimo ci aspettiamo che l'output eccederà ai livelli prepandemici nel primo trimestre 2022 con questa nuova ondata di pandemia alcuni paesi dell'eurozona hanno deciso di reintrodurre le misure di contenimento questo potrebbe rallentare il recupero dell'economia e soprattutto colpire il comparto del turismo e dei servizi perché la pandemia pesa pesa fortemente in questo settore terziario e causa incertezze ulteriormente i prezzi dell'energia al rialzo è un problema per i consumi un problema importante la mancanza di equipaggiamento materiali e soprattutto lavoratori per alcuni settori stanno danneggiando la produzione di alcuni prodotti manufatturieri e stanno rallentando il recupero di alcuni settori in particolar modo quello produttivo questi colli di bottiglia saranno con noi per un bel po' di tempo ma dovrebbero rallentare nel 2022 guardando avanti ci attendiamo che la crescita rimbalzerà fortemente nel corso del 2022 e la nostra il nostro staff le proiezioni del nostro staff vede il pil del 2021 al 5,6% 4,2% nel 2022 e al 2,9% nel 2023 e 1,6% nel 2024 questo per quanto concerne il pil paragonato alle nostre proiezioni di settembre l'outlook è stato rivisto al ribasso per il 2022 e attenzione al rialzo per il 2023 le misure fiscali devono continuare a complementare la politica monetaria questo sostegno aiuterà l'economia ad aggiustarsi ai cambiamenti strutturali a cui stiamo assistendo e l'implementazione effettiva della Next Generation EU The Fit for 55 contribuiranno ad un più forte più verde una ripresa più forte più verde all'interno dell'Unione Europea scusate dell'Eurozona dunque guardiamo l'inflazione ora l'inflazione è aumentata del 4,9% a novembre e rimarrà sopra il 2% per la maggior parte del 2022 l'inflazione rimarrà elevata nel breve termine ma ci aspettiamo che declinerà nel corso dell'anno prossimo l'upswing dell'inflazione è prevalentemente un effetto a causa dell'energia specie i prezzi dell'energia e i prezzi del gas in novembre l'inflazione energetica è stata piuttosto superiore della metà dell'inflazione headline e la domanda continua ad eccedere soprattutto l'offerta per la maggior parte dei settori dell'economia queste pressioni sono particolarmente importanti per quanto concedono i cosiddetti beni durevoli e soprattutto per tutti i settori che sono stati recentemente riaperti questi effetti base sono legati anche all'IVA tedesca che contribuiscono fortemente a questa inflazione in Germania ma finiranno alla fine di quest'anno questi impatti dall'IVA c'è un'incertezza quanto tempo ci vorrà per queste problematiche di risolversi ma nel corso del 2022 ci aspettiamo i prezzi dell'energia di stabilizzarsi e i consumi potrebbero normalizzarsi e soprattutto i colli di bottiglia rallentare o sparire nel tempo il ritorno graduale dell'economia verso la piena capacità e il miglioramento del mercato del lavoro dovrebbero sostenere una crescita più veloce dei stipendi i mercati e i sondaggi per quanto c'è la nostra inflazione di lungo termine sono piuttosto stabili soprattutto dopo il nostro incontro di ottobre ma tutto sommato questi sono piuttosto vicini al 2% nei mesi recenti questi fattori aiuteranno l'inflazione underlying a spostarsi sopra il nostro target nel medio termine le nostre nuove proiezioni rivedono un'inflazione annuale al 2,6% nel 2021 3,2% nel 2022 e 1,8% nel 2023 e 1,8% nel 2024 significativamente più alta rispetto alle nostre proiezioni precedenti di settembre l'inflazione escludendo cibo ed energie è proiettata di una media dell'1,4% nel 2021 1,9% nel 2022 e 1,7% nel 2023 e 1,8% nel 2024 e anche qui stiamo vedendo numeri superiori rispetto alle nostre proiezioni di settembre tornando verso il risk assessment stiamo vedendo alcuni rischi per quanto concerne l'outlook economico piuttosto bilanciati l'attività economica potrebbe sovraperformare le nostre aspettative se i consumatori diventassero più confident e mettono solo da parte meno rispetto alle attese il peggioramento della pandemia ma soprattutto la nuova variante potrebbe essere molto persistente in termini di impatto negativo per quanto concerne la crescita il futuro del prezzo dell'energia e i colli di bottiglia sono risolti la risoluzione scusate di questi elementi sono importanti per il recupero dell'economia i prezzi dell'energia sono un altro rischio per quanto concerne la ripresa economica perché l'inflazione possa diventare più alta nel medio termine questi sono i rischi che comporta questo elemento guardiamo rapidamente anche le condizioni economiche i tassi di interesse sui mercati sono stabili dal nostro incontro di ottobre i prestiti bancari per le famiglie e le aziende sono a livelli storici e tutto sommato le condizioni finanziarie per l'economia rimangono favorevoli i prestiti nei confronti delle famiglie è parzialmente legato a ovviamente i bisogni legati ai colli di bottiglia che aumentano le spese per l'azienda e ovviamente le spese per il capitale il capitale umano ovviamente le domande per prestiti da parte delle aziende i cosiddetti corporate loan rimangono moderati e soprattutto prestiti nei confronti delle famiglie rimane robusto guidato ovviamente per le domande domanda alta per le ipoteche le banche europee hanno rafforzato i loro balance grazie a meno non performing loans e le banche sono profitevoli quanto lo erano prima della pandemia le condizioni bancarie rimangono favorevoli tutto sommato e in linea con la nuova con la nostra nuova politica strategia di politica monetaria due volte all'anno facciamo la valutazione di politica monetaria in maniera molto molto approfondita insieme alla stabilità finanziaria una politica monetaria accomodante aiuta la crescita che di conseguenza aiuta il balance sheet delle aziende soprattutto le famiglie e previene evita un'interruzione della stabilità finanziaria ci sono alcune vulnerabilità di medio termine che si sono manifestati bisogna assolutamente proseguire con una politica monetaria molto prudente per rispondere a queste vulnerabilità di medio termine che si sono manifestate recentemente e dunque per fare il punto l'economia dell'eurozona continua a recuperare nonostante il rallentamento del breve termine l'incremento forte dei prezzi delle energie e soprattutto i colli di bottiglia la mancanza di prodotti in alcuni settori ha spinto fortemente l'inflazione e l'inflazione rimarrà sopra il nostro target per la maggior parte del 2022 ma molto probabilmente ralenterà nel corso dell'anno prossimo nel frattempo considerando il progresso della ripresa economica i nostri target di medio termine non possiamo fermare possiamo assolutamente terminare il PEP a fine marzo ma dobbiamo assolutamente continuare con gli acquisti nell'ambito dell'APP e la nostra forward guidance in termini di tassi di interesse e inflazioni crediamo che raggiungeremo i nostri obiettivi nel medio termine e dunque siamo pronti a prendere le vostre domande la prima domanda oggi va Johanna Tregg di Politico grazie mille mi sentite si la sentiamo perfettamente senta il piano che ha appena delineato specie per quanto c'è nell'APP implica niente rialzo dei tassi di interesse entro la fine del 2022 visto il vostro forecast cioè previsioni quanto confident siete per rimanere sui attuali tassi di interesse per così lungo tempo l'anno scorso avete avuto le proiezioni sull'inflazione verso l'1% per quest'anno invece siete ben al di sopra di questo numero attualmente quanto avete considerato l'omicron per le vostre proiezioni macroeconomiche e insomma quanto esattamente vi disturba grazie per la sua domanda dunque lei ha identificato un fattore che è l'incertezza l'incertezza purtroppo ci fa parlare tanto di sé durante le nostre riunioni considerando tutto ciò che sta accadendo e soprattutto considerando anche la forte ripresa dunque da una parte abbiamo una forte ripresa e soprattutto disoccupazione a ribasso al 7,3% attualmente dell'eurozona che è un numero spettacolare le nostre proiezioni sono del 6,6% nel 2024 un numero che non abbiamo mai avuto nell'eurozona ma nel frattempo abbiamo un'inflazione che sta andando verso il nostro target di medio termine ma nel frattempo dall'altra parte c'è l'incertezza legata all'omicron come lei ha appena indicato poi ovvio non è solo l'omicron insomma è questa quinta ondata di casi covid soprattutto in alcuni paesi dove fra le altre cose hanno intrapreso delle misure importanti quindi per il momento è ancora in valutazione l'impatto dell'omicron tra poco tornerò su questo argomento tra pochissimo abbiamo un'altra incertezza che riguarda le due items che hanno spinto questa inflazione c'è i due elementi soprattutto che hanno spinto le nostre proiezioni a rialzo il prezzo dell'energia che è gran parte a livello di contributo dell'inflazione eurozona e soprattutto i problemi dell'offerta la produzione di ovviamente alcuni prodotti come le macchine è la prima cosa che mi viene in mente da dare come esempio quindi abbiamo questa situazione forte ripresa bassa disoccupazione inflazione verso il nostro target e dall'altra parte incertezza legata alla pandemia e l'evoluzione della pandemia e soprattutto incertezze per quanto concerne i prezzi dell'energia e i colli di bottiglia e dunque considerando tutto ciò che abbiamo detto abbiamo fatto decisioni che sono perfettamente in linea con ciò che intendevamo sin dall'inizio cioè un graduale riduzione di acquisti di titoli di Stato che faremo nei prossimi trimestri e come risultato abbiamo deciso di sconettere il PEP dall'APP e cioè finirà il PEP a marzo e ridurremo il ritmo di acquisti nei prossimi tre mesi cioè nel prossimo trimestre avremo questo movimento graduale un declino graduale rispetto a dove siamo adesso noi non vogliamo avere una transizione che farà male che farà male o che farebbe male e dunque vogliamo continuare il nostro progresso verso i nostri target e soprattutto arrivarci ai nostri target dove non siamo al momento e questo è il motivo per cui abbiamo deciso di incrementare i volumi sotto il programma EPP ma per incrementarlo con un declino però nel corso del 2022 e soprattutto nel terzo nel secondo e nel terzo e nel quarto trimestre del 2022 non stiamo facendo delle promesse specifiche se state andando a vedere il nostro comunicato stampa ad ottobre abbiamo avuto 20 miliardi di acquisti nell'ambito del PEP e dunque verso fine anno 2022 manterremo questo livello sperando ovviamente che arriveremo ai nostri target nel frattempo soprattutto dell'inflazione del 2% considerando ovviamente l'incertezza cerchiamo di avere più opzioni possibili cioè più flessibilità spazio di flessibilità possibile abbiamo deciso di estendere i reinvestimenti il periodo di reinvestimenti almeno di un anno e abbiamo anche deciso in relazione del PEP mantenerlo aperto siamo data driven cioè dipendiamo dalla data e valuteremo ogni volta che facciamo la riunione guardando le proiezioni dei dati faremo una valutazione come stiamo dicendo molto chiaro al nostro comunicato stampa andremo ad aggiustare le nostre politiche monetarie soprattutto basandoci ai dati che stiamo ricevendo quotidianamente sotto le circostanze presenti è poco probabile che alzeremo i tassi di interesse nel 2022 questo ve lo ripeto è poco probabile ma dobbiamo essere molto attenti a che cosa ci suggeriscono i dati che cosa ci suggeriscono i numeri e noi lo faremo ogni volta che ci incontriamo saremo molto molto attenti ai numeri che stiamo vedendo e saremo sempre pronti ovviamente ad aggiustare la nostra politica monetaria tornando alla domanda sull'omicron senta noi siamo proprio nel kingdom dell'incertezza nel regno dell'incertezza ovvio che avrà un impatto ma al primo posto dobbiamo riconoscere che le nostre economie sono diventate molto più resilienti più forti e molto più capaci ad aggiustare ad adattarsi ad ogni ondata che ci arriva quindi ovviamente l'aiuto da parte del mondo scientifico è piuttosto importante è stato estremamente fondamentale per combattere questo virus e soprattutto stiamo ancora cercando di capire qual è la differenza tra omicron e delta per poter ovviamente comprendere meglio l'impatto dell'omicron però quello che posso dirvi è che l'economia è molto più resiliente rispetto a ciò che era nel passato ci sono alcune paure che le persone magari usciranno meno consumeranno di meno spenderanno di meno a causa di queste restrizioni ma potrebbe avere qualche impatto anche sull'offerta potrebbe esserci un impatto inflazionistico o disinflazionistico che sono ovviamente incertezze di cui adesso non possiamo parlare sono cose che non possiamo dire con certezza adesso perché bisogna vedere che cosa appunto accadrà e speriamo ovviamente verso una diminuzione della politica monetaria accomodante graduale ma saremo flessibili per qualsiasi cosa grazie la prossima domanda va a Reuters prego scusatemi eccomi qua la prima domanda è quali sono le diverse alternative di cui avete parlato oggi in termini di politica accomodante soprattutto avete preso le decisioni all'unanimità maggioranza insomma com'è andato avete parlato per quanto c'è questa flessibilità soprattutto se dovesse fare un trade off tra PEP e APP sotto i volumi che sono stati decisi proprio oggi e soprattutto all'interno di questa cornice che avete deciso oggi è un take sul capital key grazie per le sue tre domande se ho contato bene per quanto concerne la prima ci sono talmente tanti strumenti per quanto concerne il nostro policy statement cioè il nostro comunicato stampa abbiamo parlato di tutte le opzioni che avete davanti a voi all'interno del comunicato stampa non ci sono altre alternative un due tre c'è tantissimo lavoro abbiamo messo tanto lavoro per preparare questo incontro sotto punto di vista proiezioni macroeconomiche abbiamo dovuto confrontare i numeri centrali facendoli ovviamente aggregare alle banche centrali nazionali abbiamo discuso tutto ciò che abbiamo in questi documenti questo era veramente la difficoltà della nostra riunione è stato veramente impegnativo la seconda domanda che mi ha fatto come lei fa sempre perché è sempre curioso a capire quale sia lo stato del consiglio direttivo beh glielo dico abbiamo un'enorme maggioranza abbiamo un'enorme maggioranza all'interno del del consiglio direttivo alcuni magari sono stati d'accordo sotto un punto di vista altri sono stati d'accordo sotto altro punto di vista però le assicuro in una cosa c'è stata una larga maggioranza per quanto concerne queste decisioni di oggi però mi spiace dire queste cose perché a volte leggo i vostri articoli ma vado a leggervi un paragrafo che è veramente importante e forse lì potrebbe esserci qualche domanda nel concetto di flessibilità leggo per voi di nuovo la pandemia ci ha fatto vedere che sotto le condizioni stressanti la flessibilità deve essere disegnata soprattutto per acquistare gli acquisti titoli di stato e il PEP hanno aiutato in concomitanza con la politica fiscale ci ha aiutato a raggiungere più velocemente i nostri obiettivi di politica monetaria all'interno del nostro mandato la flessibilità rimarrà un elemento di politica monetaria qualora qualora c'è un pericolo per ovviamente la stabilità dei prezzi e un pericolo per la trasmissione della nostra politica monetaria se lei leggesse questa frase il successo della flessibilità che stiamo dando che stiamo legando al PEP è piuttosto importante da ciò che abbiamo imparato i principi che abbiamo riconosciuto e cioè sotto alcune circostanze usare la flessibilità come un attributo in queste condizioni credo che questo sia veramente un statement molto molto importante e soprattutto molto forte questo programma il PEP ha avuto un ruolo chiave e continua ad averlo e continuerà ad averlo per quanto concerne la nostra politica monetaria la ringrazio la prossima domanda va ad un quotidiano greco il Greek daily ci sente o semplicemente ha spento l'audio dunque finché lei risolvi i suoi problemi vado verso la prossima domanda una domanda a Bloomberg grazie grazie mille il vostro outlook inflazionistico per 2023 e 2024 quali sono allora i rischi al ribasso non sono piuttosto importanti ma come state vedendo invece i rischi al rialzo si possono materializzare effettivamente secondo lei i PEP possa ritornare se questo è necessario sotto quale circostanza potrebbe accadere ci può dare una cornice per quanto concerne ovviamente i vostri acquisti titoli di Stato grazie per la sua domanda intanto però spero che avremo il nostro collega greco in linea per poter parlarli in relazione alle nostre proiezioni inflazionistiche per il 2023 e 2024 che sono all'1,8% che è leggermente al di sopra rispetto alle stime precedenti stiamo facendo veramente dei progressi importanti verso il nostro target ma non siamo proprio sul nostro target guardando i tre criteri della nostra forward guidance le rispondo le rispondo no non ci siamo c'è un rischio al rialzo sì c'è possibilmente un rischio al rialzo ma dunque ciò che credo è che il nostro staff ha messo le proprie proiezioni anticipando alcuni impatti soprattutto sui salari e come state vedendo noi stiamo guardando i salari perché questo è un indicatore piuttosto importante per determinare quanto questi effetti di second round cioè di seconda base avranno si materializzano però secondo noi nelle circostanze attuali non ci saranno questi impatti di secondo piano nelle nostre proiezioni che abbiamo prodotto ovviamente dal nostro staff ovviamente alle proiezioni delle banche centrali nazionali sì c'è veramente abbiamo preso in considerazione il rialzo dei salari perché è un punto piuttosto importante potrebbe esserci una ripresa molto molto forte un come dire momento di rialzo dei stipendi che questo potrebbe essere anche un game changer però per il momento rimane molto molto incerto l'outlook e soprattutto ci chiediamo come il prezzo dell'energia evolverà nei prossimi trimestri e soprattutto se sarà elevato o più elevato quali saranno le dinamiche da ora in avanti probabilmente quello che posso risponderle è che probabilmente si stabilizzeranno entrambi e lo stesso vale per l'aggiustamento tra domanda e offerta ma probabilmente ci aspettiamo che i consumi rinizieranno in una maniera molto più normale torneranno in una maniera normale e non ci sarà questo catch up demand che abbiamo osservato negli ultimi mesi e crediamo che l'offerta si aggiusterà alla domanda stiamo sempre parlando nel 2022 parlando dell'energia probabilmente si stabilizzerà domanda offerta si aggiusteranno nel corso del 2022 e per quanto concerne gli stipendi e gli effetti di secondo termine sono valutazioni che possiamo fare solo su base settimanale ma ciò che stiamo vedendo adesso è decisamente al di sotto dei livelli che sono stati consideranti nelle proiezioni precedenti speriamo ovviamente che raggiungeremo il nostro target di medio termine e soprattutto le nostre azioni sono ovviamente legate al raggiungimento di questi target la seconda domanda che riguarda il PEP dunque noi vogliamo flessibilità e opzionalità e come parte di questi due della flessibilità noi lo abbiamo detto chiaramente leggo per voi questo paragrafo che è importante dunque noi stiamo dicendo a pagina 3 gli acquisti netti all'interno del PEP potrebbero essere ripresi se necessario per ovviamente combattere shock negativi dalla pandemia io direi molto chiaro ma come detto sarà sempre una decisione del consiglio direttivo se qualcosa accadrà in maniera random però ci vorrà sempre una decisione del consiglio direttivo sulla raccomandazione del bordo esecutivo per quanto c'è nell'APP noi non stiamo dicendo un numero preciso di acquisti o la bilancia che avremo a marzo quindi dipende ovviamente dalla determinazione del consiglio direttivo e dipende molto dalle circostanze cerchiamo di nuovo di raggiungere il nostro collega greco eccoci qua grazie mille per la pazienza la mia domanda è per i bond grechi sotto che tipo di circostanze sarete disposti ad acquistare all'interno del programma APP Greek Bonds cioè bond ellenici ci può spiegare perché attualmente sono esclusi del vostro programma dunque grazie per la sua domanda allora credo che l'eleggibilità e il criterio di elegibilità per acquisti di titoli di stati sotto il PSPP è molto chiaro ed è molto chiaro che attualmente la Grecia non potrebbe rientrare all'interno dell'investment great bonds e questo è molto chiaro credo credo però che la Grecia ha fatto un ottimo progresso per quanto concerne il vostro programma di riforme e cambiamenti nel corso del tempo io lo vedo ogni volta che facciamo ovviamente il punto soprattutto quando la Commissione Europea sta facendo il punto la Grecia ha migliorato il proprio rating ma non è tuttora attenzione elegibile per rientrare all'interno del PSPP o PEPP e dunque abbiamo deciso di avere una referenza specifica al nostro comunicato stampa per assicurarci che questo aspetto è stato questo è un paragrafo importante dunque ve lo leggo subitissimo allora quando diciamo questi sono i nostri principi per gli investimenti se dovesse rappresentarsi una frammentazione del mercato sotto il PEP i reinvestimenti potrebbero essere riaggiustati in maniera flessibile nel tempo all'interno delle diverse giurisdizioni asset classes e così via e qua c'è una frase per la Grecia ciò potrebbe includere acquisto di obbligazioni ammesse dalla Repubblica ellenica al di sopra dei rollover dei rimborsi al fine di evitare un'interruzione degli acquisti in quella giurisdizione che potrebbe compromettere la trasmissione della politica monetaria all'economia greca mentre si sta ancora riprendendo dalle ricadute della pandemia dunque io ve lo dico questo è un segnale molto chiaro e molto forte abbiamo deciso di includere questo paese nel nostro comunicato stampa per essere molto chiari sotto questo punto di vista e spero che effettivamente vi sentite fortemente sostenuti perché è stato sostenuto a maggioranza il nostro consiglio direttivo prossima domanda a The Financial Times buongiorno mi sente presidente si la sentiamo prego fantastic ci può illustrare le condizioni sotto le quali potrebbe ripartire il pep visto che dovrebbe terminare a marzo avrà a che fare con la pandemia con l'inflazione con lo stato della crisi la mia seconda domanda è che lei ha detto che la crescita sta rallentando in questi ultimi mesi però all'inizio dell'anno prossimo ci sarà di nuovo una forte ripresa della crescita e sperate che raggiungerete il vostro target medio al 2% di inflazione allora perché avete deciso di ridurre così importante i vostri acquistitori di Stato grazie per le sue domande allora mi permette di ricordarle come stiamo pianificando di usare il pep dopo aver discontinuato gli acquisti all'interno del pep perché è un strumento che vogliamo usare per soprattutto il periodo di reinvestimento che fa parte della nostra flessibilità sotto le circostanze delle causalità che causa il pep e dunque è legato fortemente alla pandemia e l'emergenza della pandemia quindi sono due diversi modi da guardare cioè prima è la flessibilità di reinvestimento una politica flessibile a livello di reinvestimenti guardate pagina 3 e se necessario questo è come vogliamo mantenere le nostre opzioni disponibili se necessario gli acquisti netti possano essere ripresi e questo è chiaramente indicato nel nostro comunicato stampa ve lo leggo per counter shock negative cioè rispondere a possibili shock negativi questo è un strumento specifico alla pandemia e ha bisogno ovviamente di implementazione ovvio la pandemia adesso include anche un momento di transizione dalla pandemia e per il momento c'è stato un recupero piuttosto importante non dimentichiamoci che forniremo un'estensione dei reinvestimenti per un anno ulteriore stiamo parlando della pep quindi ci sono tre dimensioni che il pep servirà questa flessibilità che ci ha aiutato tanto negli ultimi due anni lei ha avuto un'altra domanda che trovo veramente strana onestamente per cui quello che stiamo facendo in occasione di questo incontro è fare la conclusione come e quanto efficienti sono i nostri programmi di acquisti e soprattutto quanto sono stati e quanto lo saranno ma in particolar modo il pep non dimenticate che quando abbiamo iniziato il pep era separato in due modi per assicurarsi la stabilità finanziaria e la ripresa economica e vi devo dire che il pep ha raggiunto i propri obiettivi la fermentazione è stata ridotta e in termini di dove vogliamo arrivare ai livelli pre-pandemici che erano ad 1,6% allora attualmente siamo all'1,8% il tempo passa e ovviamente la pandemia ha colpito l'economia come risultato abbiamo deciso di fermare il pep a marzo e ridurre il ritmo di acquisti i volumi di acquisti ma 1,8% non è 2% e quindi vogliamo raggiungere questo target del 2% nel medio termine in linea con la nostra forward guidance quindi manteniamo l'APP non al 20% ma al 40 miliardi di mese per non avere una brutale transizione di politica monetaria quindi non vedo le contraddizioni che lei ha identificato spero che potreste farvi la lezione anzi perché noi ci siamo fatti abbiamo fatto la ragione su tutto quello che abbiamo fatto sinora come l'abbiamo fatto come l'abbiamo condotto abbiamo deciso di riattivare se gli acquisti se necessario stiamo parlando del PEP e separatamente abbiamo deciso ovviamente per raggiungere una transizione brutale di incrementare l'APP da 20 a 40 miliardi che però poi declinerà nel corso del 2022 grazie la prossima domanda va a Klaus Reiner buon pomeriggio presidente prima domanda sulle proiezioni del vostro staff se guardiamo le figure e considerando l'incertezza che le ha sottolineato sono basito dal 3,6% inflazione dell'anno prossimo lei è preoccupata che la popolazione perde la fiducia nei vostri confronti in termini delle vostre proiezioni perché ovviamente siete lontani dai numeri abbiamo visto forti cambiamenti di politica monetaria dall'Australia della Gran Bretagna e degli Stati Uniti invece la BCE sembra che mantenga l'approccio accomodante per conto che c'è nell'intero 2022 come commenta questa ecco questa situazione potrebbe diventare come potrebbe commentare questa controversia rispetto alle altre banche centrali inizio con la risposta delle domande lei ha ragione che le nostre proiezioni per il 2022 significativamente più alta rispetto alle nostre proiezioni di settembre ma se guardate che cosa c'è dietro questo incremento sì eravamo ad 1,7 adesso siamo a 3,6 ovvio che c'è una differenza importante però abbiamo cercato di andare sotto la pelle di queste proiezioni inflazionistiche non è un lavoro che fa solo la BCE ma tutte le banche centrali nazionali del Bundesbank Banca Italia Banca de France insomma tutte quelle banche hanno contribuito a questi numeri è una media un'aggregazione dei numeri che abbiamo ricevuti quindi attenzione non è un esercizio che fa la BCE basta cioè facciamo così intendo dire se guardiamo al dettaglio quello che abbiamo ovviamente come numeri questa inflazione è causata dai prezzi dall'energia per la maggior parte per il motivo principale è il prezzo dell'energia per anticipare la diagnosi viene come risultato cioè l'inflazione è un risultato di problemi geopolitici che si stanno sviluppando attualmente è anche un risultato ad una domanda significa perché ovviamente poche persone si immaginavano questa domanda ai livelli attuali problemi climatici dove a causa del guardi mi spiace di parlare dei problemi climatici ma ci sono alcune aree che stanno producendo energia dal vento e quindi hanno problemi ovviamente per quanto concerne l'offerta di gas tantissimi paesi invece hanno meno problemi sotto questo punto di vista perché lì c'era un inverno meno importante quindi rimangono ecco queste variabili che sono piuttosto importanti che ci fanno cambiare le nostre proiezioni come detto l'energia è più di due terzi di questa diversa questa differenza tra le nostre proiezioni di settembre e di questo mese l'altra parte di questo e sto parlando della delta tra le precedenti proiezioni e le proiezioni di oggi l'altra parte è essenzialmente legata alla duration dei colli di bottiglia locali che ovviamente è la domanda e la ristretta offerta dall'altra parte quindi come hanno fatto già tanti economisti non nessuno pensava che avrebbe continuato per così tanto tempo abbiamo cercato di scavare bene per capire meglio ovviamente non abbiamo guardato solo i nostri modelli abbiamo guardato veramente tantissimi modelli per capire insomma meglio abbiamo contattato diversi imprenditori diverse diverse aziende e tutti i settori per fargli una domanda e chiedergli sentite ma come state facendo a livello di offerta come come sono come siete messi a livello di consegne ciò che stiamo vedendo ora è solo l'inizio è un inizio di ecco un ritardo per quanto concerne l'offerta piuttosto importante e stiamo iniziando già a vedere un miglioramento della riduzione di questi colli di bottiglia però sono molto esitante perché non vorrei dire troppe cose per quanto concerne i colli di bottiglia perché è uno dei fattori che è più incerto da tutti quelli che ho appena elencato io credo che sia molto difficile paragonare gli Stati Uniti e l'eurozona o la Gran Bretagna con la zona euro queste sono tre economie che sono completamente diverse sono su uno stato completamente diverso del ciclo economico e hanno avuto un inizio completamente diverso hanno anche avuto un diverso livello di sostegno fiscale quindi onestamente glielo dico e non credo sia proprio giusto fare il paragone tra tutti e tre perché quello che è accaduto con la FED non è accaduto all'interno del BCE noi siamo in tre diversi universi ciò che stiamo facendo noi perché è giusto che lo facciamo non possiamo guardare ovviamente quello che stanno facendo loro perché siamo su una base molto diversa e per ovviamente ecco per implementare la nostra politica monetaria in maniera efficiente abbiamo una forward guidance che è molto ovviamente molto chiara quando abbiamo raggiunto i nostri target e i nostri criteri e quando ovviamente la forward guidance sarà su un progresso sufficiente soprattutto i target sono ben lontani dalle nostre proiezioni quindi abbiamo bisogno di questi tre elementi e soprattutto seguire la nostra forward guidance per capire quando inizieremo ad alzare i tassi di interesse e questo ci ha fatto capire che a breve dopo la fine degli acquisiti titoli di Stato inizieremo con il rialzo dei tassi quindi questo ci dà un posizionamento molto chiaro per quanto concerne i nostri obiettivi ma dunque l'inflazione è molto è veramente forte per quanto concerne i consumatori e soprattutto le persone che stanno acquistando soprattutto alcuni prodotti che acquistano ovviamente ad un prezzo molto più alto oggi rispetto a ciò che era non so tre mesi fa e soprattutto considerando ovviamente i prezzi dei prodotti i prezzi dell'energia e stiamo cercando di rispondere a queste problematiche in una maniera graduale sostenendo i nostri obiettivi e raggiungimento del nostro target non lo so se Luis De Guindus vorrebbe dire qualcosa può farci sentire la sua voce giusto per capire che state bene grazie mille per il suo augurio io vorrei soltanto dire a tutti che mi sento bene i miei sintomi sono stati molto lievi sto facendo questa esperienza e sto capendo sto capendo attualmente che l'unica cosa che mi viene da dire è quanto importante è vaccinarsi per ovviamente poter passare il covid nella maniera in cui lo sto passando io e cioè in maniera molto lieve grazie mille a tutti per i belli pensieri ultima domanda Isabella Bufacchi del Sole 24 Ore grazie Isabella prego a lei grazie per l'opportunità avrei due domande la prima è sul Teltro 3 ci può dare un'idea come la discussione è andata sotto il punto di vista Teltro non è un strumento piuttosto forte avete discusso un'estensione del Teltro 3 o addirittura un Teltro 4 la mia seconda domanda è il PEP giusto per capire se c'è un motivo preciso perché e come avete deciso di terminare il PEP a marzo 2022 ma estendere i reinvestimenti al 2024 e soprattutto considerando ovviamente l'importanza della flessibilità di cui avete bisogno crede che i reinvestimenti è un strumento importante nel vostro scatola di strumenti grazie grazie mille per quanto con c'è il Teltro come lo sa ci ha dato una liquidità importante a tassi molto molto importanti cioè molto accomodanti scusate le banche continueranno a dare prestiti e i nostri sondaggi che facciamo su base regolare ci stanno indicando che i Teltro soprattutto i Teltro in condizioni speciali sono stati molto efficienti per sostenere il finanziamento delle economie soprattutto sotto il prezzo dei livelli delle famiglie giustamente come già pianificato e considerando le condizioni finanziarie ci aspettiamo che queste condizioni speciali applicate al Teltro 3 finiranno a giugno 2022 questo ovviamente si basa alle nostre proiezioni attuali e soprattutto alla transizione della nostra politica monetaria perché le banche ovviamente sono contente a beneficiare delle condizioni attraenti del Teltro 3 a settembre 2022 sarà ovviamente la maturità a dicembre 2024 quindi le banche continueranno a beneficiare da queste condizioni molto attraenti appunto per il sistema bancario questo programma rimarrà available appunto per il comparto bancario dell'Eurozona per poter ovviamente avere queste condizioni finanziarie favorevoli ed essere certi che la nostra politica monetaria sia trasmessa in maniera appropriata al sistema bancario allora qual era la sua seconda domanda PEP e reinvestimenti nel 2024 ah sì 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 giusto corretto allora se guardiamo il PEP l'estendere i reinvestimenti nel 2024 è stato considerato come appropriato dal comitato sotto le circostanze attuali per poter ovviamente guadagnare un po' di flessibilità e poter ovviamente raggiungere il nostro target del 2% al medio termine come detto almeno fino entro 2024 continueremo a fare i reinvestimenti del PEP la flessibilità e opzionalità sono sul nostro tavolo perché bisogna essere molto attenti alla situazione legata all'incertezza c'è un forte recupero che stiamo vedendo soprattutto dei ottimi numeri in termini di crescita e soprattutto con questo vorrei augurarvi buone feste buon Natale a tutti quelli che festeggiano Natale e ci rivedremo nel nuovo anno come dico spesso rimanete sani fate attenzione alle persone che volete bene e spero che appunto sarete allontano dal covid grazie mille buone feste il 3 di febbraio la nostra nostra prossima conferenza stampa ciao e grazie grazie a tutti